Sì, non so se mi copiate, ma credo che ho un problema nella mia modulazione, è correcto? Ti copio, ti copio, nessun problema, il tuo signale ora è 5x8, 5x8 è il tuo signale attuale, Alex, ma ti copio perfettamente, la lettabilità è perfetta, è 5 lettabilità, 5x8 è il tuo rapporto. Wow, buongiorno, ok, non uso un transceiver, è il codice, TRC2000, I have put the power amplifier in order to have 100 watts on this frequency, quindi ti comprendo bene nel transceiver, quindi magari la modulazione è diversa, ecco, 21, Charlie Whisky, Ocean 24, Hot Bravo. Sì, sì, ti comprendo perfettamente, come ti ho detto, le ultime volte, quando abbiamo fatto i testi, ero sul campus, e c'è molta ruota là, e volevo fare il test con te, da una buona locazione, per essere giusto con i vostri transceiversi, perché sono sicuro che sono molto buoni, e i video che abbiamo fatto, non riflettendo quella qualità, perché del ruota di background sui miei locali. Ora, posso te sentire molto meglio senza il ruota di background, è un piacere di sentire. Se vuoi, adesso, Alex, puoi fare il test con il PRC2000, ma senza il amplificatore di power. andate, Oscar November 4, Foxtrot Bravo, Ecco Charlie One, Charlie Whisky. Ok, Alex, hai steggiato, ancora copio, ancora copio, il tuo signale è 5x7, 5x7 è il tuo signale senza l'amplificio di potenza e è difficile copiare perché c'è un QRM da una stazione vicenda, posso sentire il splatter da una stazione vicenda, è il motivo per cui con il signale di 5x7 che hai ora è un po' difficile copiare, Alex, quindi puoi fare un altro test ora con un altro transceiver, se vuoi, Oscar November 4, Foxtrot Bravo, Echo Charlie 1, Charlie Whiskey. Roger, Alex, ora la tua trasmission ha migliorato molto molto, la leggibilità è molto buona ora e non so che potenza ti usi, credo che ho capito 10W, ma non sono sicuro, mi racconta la tua potenza, Alex, Oscar November 4, Foxtrot Bravo, ecco Charlie 1, Charlie Whiskey. Ecco Charlie 1, Charlie Whiskey, Oscar Wilde, il mio progetto è il mio progetto. La mia progetto è la mia 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 progetto. Roger Alex, anche se c'è qualche QSB ora il tuo segno è circa 5x8 e... a volte 5x9, ma c'è un po' di QSB il tuo segno è molto variabile tra 5x6 e 5x9 e la mia progetto è circa 5x8 5x8 C'è un QRM per me da una stazione che è un po' di frequenza più alta che la nostra se vogliamo possiamo andare a 7.185 7.185 e vedere se le condizioni migliorano qui, Alex. Oscar November 4 Foxtrot Bravo Echo Charlie One Charlie Whiskey e vedere se le condizioni migliorano qui ci sono quindi ora ti mostro il stagione e il costo di 2.000 km quindi ora ti mostro il stagione e il stagione del barbolo ok Alex, credo che il problema ora è il QRM il QRM è il problema, perché ci sono molte stagioni vicino quindi è molto difficile, comprendo che sei ok, ma è difficile se vuoi puoi fare il test con un altro transceivero su questa frequenza, Alex ok Alex, credo che sia una buona idea il PRC320, puoi collegarlo prima con l'amplificatore di potenza e possiamo fare il test così eccociato Grazie a tutti